Partito Comunista su Facebook. 25 novembre 2017 alle ore 12.51. Una riflessione di Monica Perugini responsabile nazionale donne del Partito Comunista, non ci troverete al fianco di chi si appassiona per le denunce che potenti hanno fatto, fuori tempo massimo e spesso in modo connivente, contro altri potenti, ci troverete con le precarie, con le donne delle cooperative delle pulizie che popolano uffici pubblici e privati per salari che si aggirano attorno all'euro all'ora, con le giovani costrette a formule come garanzia giovani ovvero lavorare per euro 400 mensili per 40 ore settimanali, con le molte donne immigrate in lotta contro la nuova schiavitura presentata dalle sempre più numerose cooperative sorte per sfruttare una nuova, disperata forza lavoro a poco prezzo, con le studentesse dei centri professionali che lavorano gratuitamente con le procedure dell'alternanza scuola barra lavoro e con le donne che lottano per salvaguardare i pochi servizi sociali rimasti, dai consultori agli ospedali, dai servizi scolastici a quelli extrascolastici come le mense e i trasporti che rivendicano come debba essere soppressa per legge sull'obiezione di coscienza dei medici antiabortisti nelle strutture pubbliche che di fatto impediscono la IVG, interruzione volontaria gravidanza, o la rendono una procedura avilente e sempre più precarizzata. NB, Radia Uncino 8.1.it ha pubblicato questo post del Partito Comunista condividendo le denunce sulle oppressive scelte governative degli ultimi anni contro le donne e i proletari tutti, pur trovandosi a fianco di chi ha denunciato aggressioni alla propria, e di genere, dignità, anche se potenti e in ritardo o fuori tempo massimo, come riportato da Monica Perugini nella sua dichiarazione. Questo per la denuncia pubblica e in massa nel mondo dello spettacolo, seppur tardiva, ripetiamo e fosse anche, connivente, di un modo di agire che attraversa tutta la società e i luoghi di lavoro di cui fino ad adesso si è parlato sporadicamente. Ben che dobbiamo rimarcare da parte nostra come la solidarietà fra donne sia spesso usata per propri fini o anche a favorire con azioni sociali o politiche apertamente conseguenti la disparità di genere.